Continua a crescere il tasso di incidenza dei casi di Covid-19 nel nostro Paese, che si fissa intorno a 351 casi per 100.000 abitanti. L'RT rimane invece stabile, intorno a 1,13, quindi ancora ben al di sopra dell'unità. Per quanto riguarda il tasso di occupazione dei posti di area medica e di terapia intensiva, siamo rispettivamente al 13,9% e al 10,7% e molte regioni hanno ormai superato la soglia critica di occupazione di posti letto. Data la circolazione della variante Omicron, che è molto trasmissibile insieme alla variante Delta, è bene, soprattutto in questo periodo festivo, di mantenere tutte le misure di precauzione individuale, oltre ad accelerare la dose vaccinale di richiamo. Grazie.